Ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it quest'oggi parleremo del monitor programma e del monitor sorgente in Adobe Premiere prima però vi ricordo di visionare il mio sito internet www.fabioambrosi.it dove troverete oltre ai tutorial che stiamo facendo qui su YouTube anche articoli di approfondimento se avete voglia iscrivetevi anche al mio canale YouTube per non perdere nessun video di prossima uscita e se vi fa piacere mettete un like anche alla mia pagina Facebook torniamo su Premiere eccoci ancora in Adobe Premiere come detto oggi parleremo del monitor sorgente e del monitor programma ingrandiamoli per visualizzarli meglio e vediamo bene di cosa si tratta abbiamo già parlato abbondantemente del monitor sorgente quando vi ho fatto inserire gli in e gli out quando vi ho fatto caricare le clip in anteprima e sicuramente già avrete capito che questo è il monitor che ci permette di previsualizzare il materiale che vogliamo lavorare il monitor programma anche lo abbiamo visto quando abbiamo lavorato nella timeline ed è il monitor dove viene visualizzato quello che facciamo durante il nostro montaggio in altre parole entrambi i monitor hanno sostanzialmente le stesse opzioni sono poche le differenze tra il monitor sorgente e il monitor programma vediamo però nel dettaglio quali opzioni abbiamo a nostra disposizione e quali tasti possiamo adoperare con una raccomandazione alcuni tasti che vedremo ovviamente hanno anche delle scorciatoie da tastiera io vi ho sempre detto e non mi stancherò mai di ripetere che per lavorare bene in premier bisogna utilizzare la tastiera quindi anche se molti tasti diciamo li vedremo oggi e molti tra l'altro riguardano funzioni che abbiamo già studiato ecco cercate però di ricordare sempre le scorciatoie da tastiera perché questo è il modo più veloce e preciso per lavorare in qualunque software in generale ma in premier e nel montaggio video in particolare dunque cominciamo il time code cos'è il time code? il time code è il codice di tempo è sostanzialmente l'indicazione temporale che ci informa dove ci troviamo in quel momento per esempio il time code nel monitor sorgente ci indica le ore i minuti e i secondi della clip che stiamo previsualizzando stessa cosa per il monitor programma il time code qui ci indica le ore, i minuti, i secondi e i frame della sequenza su cui stiamo lavorando bene, questo è semplice e possiamo andare avanti andiamo a vedere la barra dei bottoni come vengono chiamati in premier sono praticamente identici e sono anche personalizzabili vedremo tra breve come la prima l'abbiamo già incontrata nelle scorse elezioni quando abbiamo parlato della funzione aggiungi marcatore codice di scelta rapida tasto M della tastiera abbiamo già detto che i marcatori sono sostanzialmente dei segnalibro possiamo ricordarli in questo modo sono dei segni, sono delle etichette che ci permettono di segnare un momento della clip o della nostra timeline particolarmente importante da ricordare quindi come già abbiamo detto e come già abbiamo fatto qui sulla sequenza premendo il bottoncino aggiungi marcatore aggiungiamo sostanzialmente un'etichetta anche se è sbagliato chiamare l'etichetta in premier perché le etichette sono un'altra cosa diciamo che è un segnalibro che ci permette di ricordare che questo punto della clip è particolarmente importante per noi stessa cosa per il monitor programma il bottoncino aggiungi marcatore ci permette di aggiungere un marker direttamente nella nostra sequenza ma ne abbiamo già parlato nelle lezioni precedenti quindi io andrei avanti altri due tasti che però abbiamo già visto sono il tasto per aggiungere un punto di attacco e il tasto per aggiungere un punto di stacco entrambi i bottoni sono presenti in entrambi i monitor ma ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato di come aggiungere un in e un out infatti il marcatore aggiungi attacco aggiunge un in e il marcatore aggiungi stacco sostanzialmente inserisce un out ricordo tasti di scelta rapida la i per l'in e la o per l'out vado veloce perché sono funzioni che abbiamo già visto ancora questa è una funzione forse che non abbiamo visto perché non ne abbiamo parlato ma c'è la possibilità di andare al punto di attacco al punto di in o al punto di stacco con quest'altro bottoncino o punto di out è molto comodo perché se magari avete inserito male l'in volete magari andare indietro di qualche fotogramma e volete essere precisi con questi bottoncini potete andare esattamente nel frame in cui è inserito l'in e con quest'altro potete andare nel frame in cui è inserito l'out tasti di scelta rapida questo è importante maiuscolo o shift più i per andare all'in maiuscolo più o per andare all'out ricordateli perché piuttosto che premere questi bottoncini è preferibile usare la tastiera poi gli altri tre bottoni li abbiamo già visti sostanzialmente questo ci permette di andare indietro di un fotogramma questo bottone ci permette di mettere in play poi mettere in stop ovviamente e quest'altro bottoncino ci permette di andare avanti di un fotogramma alla volta attenzione perché sono bottoni che sono identici tra i due monitor quindi ora sto utilizzando il monitor sorgente ma quello che stiamo dicendo ovviamente vale anche per il monitor di anteprima fantastico andiamo ancora avanti altri due bottoni li abbiamo già visti quando abbiamo parlato dell'insert e dell'overwrite il primo è il bottone inserisci quindi insert ricordate la differenza tra insert e overwrite riguardate la lezione se avete dubbi l'abbiamo fatta diverse settimane fa ma è disponibile ovviamente qui su youtube tasto di scelta rapida per l'insert è la virgola mentre per l'overwrite o sovrascrivi tasto di scelta rapida è il punto vado veloce perché sono due funzioni che abbiamo già visto chiaramente è inutile dirlo questi due bottoni non sono presenti in entrambi i monitor ok sono presenti soltanto nel monitor sorgente andiamo ancora avanti questa invece è una bella funzione che magari non tutti conoscono che invece è molto molto comoda ed è disponibile chiaramente sia nel monitor di anteprima nel sorgente sia nel monitor programma ovvero la funzione per scattare un'istantanea ovvero esporta fotogramma come la chiama Premiere tasto di scelta rapida control maiuscolo E premiamo questi tasti e vediamo cosa succede control maiuscolo e bam appare una finestrina che ci chiede un po' di informazioni innanzitutto non l'ho detto ma penso che sia abbastanza intuitivo cosa fa questa funzione sostanzialmente scatta una fotografia spesso nasce l'esigenza magari perché si lavora in un sito internet e si vuole stampare una immagine di anteprima da mettere all'inizio del video di avere un fotogramma ecco simbolo del video che stiamo lavorando o una thumb come viene chiamata bene questa funzione ci permette di scattare una fotografia al fotogramma in cui ci troviamo in quel momento bene chiaramente noi diamo un nome quindi per esempio caffè o anche tazzina o anche mano come preferite tazzina anche se si vede poco dobbiamo scegliere un formato per internet va benissimo un jpeg ma potete chiaramente scegliere un png un targa un tif quello che preferite voi jpeg in questo caso va benissimo decidere anche chiaramente una cartella in cui volete andare ad esportare la vostra immagine di anteprima e premiamo ok se andiamo ad aprire la cartella che avevamo indicato come out ecco qui che abbiamo la nostra immagine di anteprima stampata e pronta per essere utilizzata come meglio crediamo quindi ricordo ctrl shift e oppure questo bottoncino che riproduce una macchina fotografica attenzione attenzione di default questo tastino nel monitor sorgente potrebbe non essere disponibile quindi se state utilizzando premiere e non lo trovate non andate nel panico non è un problema del vostro premiere ma probabilmente di default questo tastino non è inserito nella barra dei bottoni come vi dicevo prima la barra dei bottoni può essere personalizzata perché tante sono le opzioni disponibili in aggiunta rispetto a quelle che vedete qui per esempio i più attenti di voi avranno fatto caso che nel monitor programma la funzione loop non è presente ne parleremo tra poco della funzione loop però vedete che ci sono dei bottoni in più e in meno che nel monitor di anteprima non ci sono per modificare o per aggiungere questa funzione ai bottoni qui nel monitor sorgente se fate caso in basso a destra in realtà questa cosa vale per entrambi monitor quindi questa è un'altra cosa in comune tra il monitor sorgente e il monitor programma dicevo in basso a destra c'è questa più cosa indica la più che è possibile aggiungere dei bottoni cliccate sopra vedete che si apre una palette con tante altre funzioni individuate se non è presente il bottone per esportare il fotogramma e trascinatelo in questa posizione per toglierlo basta fare l'operazione inversa basta cliccare e ritrascinare dentro alla palette vedete che il bottone va via riinseriamolo così lo vedete bene scegliete l'opzione estrai fotogramma clicca col tasto sinistro trascina qui nella nella bottoniera si può dire bottoniera diciamolo ci piace e lasciate il mouse ed ecco che il vostro il vostro bottone è stato aggiunto questo vale per tutti questi bottoni che trovate qui nella palette i bottoni sono personalizzabili perfetto vediamo adesso altre due altri due bottoni che però sono disponibili sono nel monitor sorgente ovvero il primo che vedete qui selezionato che si chiama trascina solo video e questo questo altro bottoncino che si chiama trascina solo audio intanto credo che sia abbastanza intuitivo no? come dice la parola stessa cliccando sul bottoncino trascina solo video ecco io andrò a mettere in timeline solo il video se io clicco sul bottoncino e trascino trascina solo audio io porterò in timeline solo l'audio credo che sia abbastanza intuitivo ma in realtà c'è una sorpresa perché se cliccate sul bottone trascina solo audio pam vi si apre l'anteprima grafica dell'audio la forma d'onda sostanzialmente dell'audio presente in questo caso nella clip ovviamente di anteprima per tornare alla visualizzazione dell'immagine completa dovete cliccare sul bottoncino trascina solo video ed ecco qua tornerà l'immagine nella sua completezza ovviamente questo non ha alcuna ripercussione sul nostro lavoro è solo un modo per previsualizzare meglio l'audio se ne avete bisogno altra opzione importantissima specie per chi ha la brutta idea di lavorare con i video in 4k perché mi arrivano spesso delle richieste da persone che mi dicono sto per comprare una fotocamera o una videocamera in 4k come faccio per lavorare in video in 4k eccetera eccetera bene ovviamente potete lavorare in premiere con video in 4k in 5k in quello che volete però attenzione attenzione perché più la risoluzione del video che andate a lavorare è grande maggiore è il bit rate del video che andate a lavorare più il vostro computer a meno che non abbiate una workstation molto performante faticherà a lavorare video a grandi risoluzioni ed è qui che entra in nostro soccorso la prossima opzione presente in entrambi monitor ovvero questo menu che in premiere si chiama seleziona risoluzione di riproduzione che sostanzialmente ci permette di abbassare la qualità dell'immagine che stiamo visualizzando senza ovviamente avere ripercussioni minime sull'out è solo una previsualizzazione sul nostro computer abbassando di un quarto o di un mezzo la qualità dell'immagine che andiamo a previsualizzare chiaramente facilitiamo la vita al nostro computer quindi se state lavorando con immagini impegnative in 4k mov molto pesanti in progress insomma se vedete che il vostro computer va a scatti per esempio quando mandate in play la prima cosa da fare è chiaramente abbassare la qualità di previsualizzazione tramite questo menu presente in entrambi i monitor questo vale sia per il monitor sorgente sia per il monitor per il monitor programma ancora tra breve vedremo quest'altro menu che è il menu delle opzioni e delle impostazioni del monitor però prima voglio farvi notare quest'altro timecode in grigio è sostanzialmente l'indicatore della selezione dell'in e dell'out in altre parole quando inserite un in e un out ecco la durata del video che intercorre tra l'attacco e lo stacco viene insegnata qua in questo caso io ho preso 6 secondi e 22 frame ma se io inserissi un altro punto di out vedete che in questo caso ho preso ben 14 secondi e 12 frame questo è molto importante nel caso vi chiedono dammi 2 secondi esatti di un'immagine perfetto mettete un in dove volete trascinate l'out in maniera tale da arrivare a 2 secondi esattamente eccoci qua il pezzettino che andate a prendere tra l'in e l'out durerà 2 secondi chiaramente vale anche per la timeline anche in timeline è possibile inserire un in un out e vedere quanto materiale avete selezionato detto questo andiamo a vedere subito questo menu che è il menu delle impostazioni ci sono tante impostazioni che possono essere settate in questi due monitor ovviamente non le vedremo tutte ma sicuramente vedremo i principali prima però mi sto accorgendo che non ho parlato minimamente di questi altri due tastini che è possibile trovare nel monitor programma di premier ovvero il tastino asporta e il tastino estrai non ne parlo quest'oggi perché voglio dedicarci un tutorial apposito a queste due funzioni che possono essere molto utili e sono sicuramente molto familiari a chi lavora con altri software come Avid per esempio chi lavora in Avid fa un grande uso di questi due tastini che sono simili tra i due software quindi per oggi saltiamo e andiamo alle impostazioni ma nelle prossime lezioni sicuramente ne parleremo dicevo torniamo al menu delle impostazioni dei monitor e andiamo subito a vedere tralasciando queste prime due opzioni a vedere subito il secondo blocco di opzioni ovvero video composito oscilloscopio audio video alfa e multivideocamera vi informo subito che oggi non parleremo del multivideocamera e lo so molti magari volevano sentire qualche parola in merito ma anche per questa funzione dobbiamo dedicare un tutorial a parte parliamo però delle prime tre funzioni intanto video composito cosa vuol dire il video composito è il video che stiamo vedendo in altre parole ok quindi segnale video e segnale audio insieme e quindi c'è poco altro da aggiungere oscilloscopio audio è esattamente quello che abbiamo visto prima quindi come ripeto sempre in premier è possibile fare la stessa cosa utilizzando tante strade diverse ecco o utilizzate questi due tastini per cambiare la visualizzazione oppure nel menu avete la possibilità di andare in oscilloscopio audio e video composito per vedere un attimino sia la forma d'onda che il vostro bellissimo video andiamo avanti dicevo tralasciamo multivideocamera alfa cos'è l'alfa il canale alfa è sostanzialmente un canale presente in molti oggetti multimediali che sostanzialmente ci informa quale parte dell'immagine è trasparente e invece quale sezione dell'immagine è opaca mi spiego meglio con un esempio intanto vedete tutto bianco qui non è un errore di premier almeno questa volta premier funziona benissimo torniamo nella visualizzazione videocomposito e carichiamo un'immagine con un canale alfa io utilizzo questa tastiera che utilizzo per mostrarvi i tasti quando creo i tutorial perché questa è un'immagine in png che contiene un canale alfa ovvero contiene delle informazioni su quale parte di questo fotogramma deve essere solida e quale parte di questa immagine deve essere trasparente come potete immaginare la mia tastiera sarà solida mentre il resto sarà trasparente o in gergo viene chiamato bucato che vuol dire che se io prendo questa immagine e la metto in timeline vedrò la mia tastiera perché il canale alfa ci informa che questa tastiera deve essere visibile mentre tutto il resto questo nero sostanzialmente che poi in realtà nero non è è in realtà un'area trasparente che quindi viene sostanzialmente ignorata da premier quando vista insieme ad altre immagini parlava appunto del canale alfa se io adesso vado a cliccare sulla funzione alfa ecco vedo in bianco quello che deve essere solido quindi visibile in nero quello che sostanzialmente deve essere trasparente è molto importante ricordare ed è una regola che soltanto alcuni formati di immagine hanno questa informazione del canale alfa in particolare sappiate che se vi dicono oh vi passo un jpeg mettilo sopra un'altra immagina crea una trasparenza ecco di per sé il jpeg le immagini jpeg non hanno non hanno informazioni sull'alfa quindi se vi dicono questa è un'immagine mettila sopra in sovraimpressione crea un canale alfa ovviamente dovete lavorarla in photoshop ritagliarla ed esportarla in un altro formato che conserva l'informazione del canale alfa per esempio il png che è molto usato anche il tif il targa ma sicuramente non utilizzerete un jpeg magari ne parleremo meglio in altri tutorial per adesso sappiate che il canale alfa è un'informazione importante per sapere quale parte dell'immagine è visibile e quale invece parte dell'immagine è trasparente e questa funzione ci permette di visualizzare questo canale il canale alfa rimettiamo in composito e andiamo ancora avanti ricarico l'immagine di prima olè ignoriamo anche per oggi quello che la sezione che riguarda le funzionalità VR in realtà aumentata di Premiere perché anche qua servirebbero dei tutorial tutorial a parte e scendiamo in quest'altro blocchettino di impostazioni che in parte abbiamo già visto la risoluzione di riproduzione è esattamente questo menu qui ok che come già detto in Premiere si possono fare le cose in più modi quindi o impostate la riproduzione la qualità della riproduzione in questo menu oppure l'andate a scegliere tramite il menu contestuale che si apre con la chiave inglese e la impostate in questo sottomenu la funzione riproduzione in pausa ha lo stesso identico utilizzo della risoluzione in produzione con la differenza che qui andate a impostare la qualità dell'immagine quando mettete in pausa quindi sostanzialmente Premiere nella riproduzione quando è in play chiaramente e qui entra in gioco questo menu quando mettete in pausa ecco la qualità viene decisa da quest'altro da quest'altro menu queste due opzioni come dicevo sono importanti se lavorate con immagini in 4k o superiori o se il vostro computer vedete che fa fatica a lavorare con le immagini scendiamo ancora avanti vediamo quest'altra opzione che penso sia anche questa molto intuitiva ciclo continuo non è altro che un loop sostanzialmente se io inserisco un in e un out vedete che ho inserito due secondi di in e di out premo play con la funzione loop sostanzialmente posso visualizzare all'infinito questo frammento di video ok questo lo ribadisco non ha alcun utilizzo al fine del montaggio in sé è semplicemente uno strumento che avete a vostra disposizione se volete vedere con maggiore attenzione un pezzettino di filmato che magari vi interessa particolarmente disabilitiamola perché non vogliamo il ciclo continuo andiamo ancora avanti abbiamo chiaramente qui la possibilità di nascondere o mostrare i controlli di trasporto vale a dire il play il vedi fotogramma vai al fotogramma in vai al fotogramma out eccetera eccetera quindi vado avanti abbastanza veloce per oggi ignoriamo la funzione mostra indicatori fotogrammi saltati ne parleremo quando parleremo del rendering quindi tra un po' di lezioni la riga successiva l'opzione successiva è numeri per righello temporale sostanzialmente attivandola ci permette di visualizzare il timecode qui nella barra di scorrimento del nostro video andando ancora avanti abbiamo la griglia trasparenza torniamo ancora all'immagine prima che avevamo caricato col canale alfa la griglia trasparenza ci permette sostanzialmente di vedere invece che il nero di vedere una griglia quadratini bianchi e grigi che sostanzialmente è un po' unanimemente riconosciuta come la griglia che ci informa che questa è un'immagine con un canale alfa che ha della trasparenza stiamo visualizzando veramente delle opzioni magari anche inutili se volete però ecco per completezza le vediamo un attimino parleremo ancora più avanti delle sovraimpressioni per il momento sappiate che c'è la possibilità di visualizzare alcune informazioni della clip direttamente sullo schermo un po' come quando utilizzate una videocamera e sulla videocamera vedete il mirino il timecode le informazioni sulla batteria eccetera eccetera ecco sono semplicemente informazioni che non usciranno mai sul vostro out definitivo dicevo queste opzioni chiaramente sono disponibili anche sul monitor sul monitor programma ma il monitor programma ha molte altre opzioni che per oggi non vedremo perché chiaramente dovremo parlare di di cose che ancora non abbiamo visto tipo la possibilità di montare più telecamere contemporaneamente eccetera eccetera l'ultima opzione che vedremo in questo video riguarda i margini di sicurezza è un'opzione molto importante soprattutto se lavorate con la grafica perché ci informa qual è la sezione d'immagine che sicuramente verrà sempre visualizzata in qualsiasi dispositivo l'opzione che trovate qui margini di sicurezza ed è valida sia per il monitor sorgente sia per il monitor programma ci permette appunto di visualizzare questa piccola griglia che sostanzialmente ci informa dove deve andare la nostra grafica ma in realtà qualunque oggetto per essere sicuramente sempre visibile nei dispositivi a cui è destinato l'oggetto multimediale ne parleremo quando parleremo della grafica e dei titoli però ecco tenere sempre sott'occhio questa griglia è una buona è una buona prassi per allineare gli oggetti in maniera corretta nella prossima lezione chiuderemo questa prima parte questa prima sezione del corso di montaggio video con Adobe Premiere vedremo come salvare perché può essere scontato ma non è proprio scontato salvare un progetto salvare un progetto credetemi è forse la vostra salvezza spesso e volentieri quindi nella prossima lezione vedremo come salvare correttamente un progetto e poi inizieremo con la seconda parte del corso in cui chiaramente vedremo altre funzioni un pochettino più avanzate quindi vedremo gli effetti come caricare effetti come inserire transizioni come creare piccole animazioni come animare i keyframe parleremo dei keyframe parleremo dell'audio che in questa prima fase abbiamo completamente saltato ma invece è fondamentale parleremo del rendering parleremo dell'esportazione parleremo della grafica dei sottotitoli insomma di argomenti ne abbiamo quanti ne volete quindi è un corso che andrà avanti ancora per parecchi mesi visitatemi sul sito internet www.fabbiambrosi.it perché lì c'è un po' un indice anche di quello che faremo nei prossimi tutorial se avete voglia iscrivetevi al canale youtube e se avete voglia mettete un like anche alla mia pagina facebook e mi trovate come Fabio Ambrosi commentate 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 sia sul sito internet che qui su youtube perché chiaramente posso aver omesso qualcosa avete domande fatele tranquillamente potete chiaramente aggiungere qualcosina se avete qualche informazione in più da dare e da condividere con gli altri utenti per il momento vi ringrazio grazie mille per il supporto al prossimo tutorial ciao ciao